C'è il voto favorevole delle Commissioni Cultura, di Camera e Senato alla proposta di nomina del Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano di Pietrangelo Buttafuoco alla Presidenza della Biennale di Venezia. Il parere positivo è avvenuto con il solo voto contrario del Partito Democratico in entrambi i rami del Parlamento, che ha motivato la sua posizione non come un voto contrario alla persona, ma per le modalità con le quali si è arrivati alla nomina. Con il via libera delle Commissioni parlamentari è superato così l'ultimo ostacolo all'arrivo del giornalista e scrittore siciliano ai vertici della più importante istituzione culturale del Paese. Si attende ora il decreto del Ministro San Giuliano, che renderà effettiva la nomina a partire da marzo 2024. Il Presidente uscente Roberto Cicuto, che ha portato la Biennale a raggiungere numeri record gestendo l'istituzione in un momento delicatissimo come quello della pandemia, riceve online i consensi sulla bontà del suo operato, come sottolinea anche Amerigo Gestucci, da sempre vicino alle attività della Biennale di Venezia. Cicuto in questi quattro anni, il Presidente ha lavorato veramente molto bene, con curiosità culturali, ha introdotto delle novità, lascia un bilancio inattivo, cosa che è positiva rispetto a come si utilizzano i fondi della cultura. E lascia, devo dire, a chi arriverà un'eredità culturale molto preziosa. Quindi il tema è che il nuovo Presidente, nella misura in cui dovesse arrivare, dovrà essere attento alle cose che Cicuto ha seminato in questi quattro anni.